Per me l'Olimpiade è la gara forse della vita, la gara a cui ogni atleta aspira, il sogno di qualsiasi atleta e di qualsiasi ragazzino che si avvicina a questo sport. Onestamente non ci penso, il Dream Team è vero che negli anni ha dimostrato di essere veramente uno squadrone che non sbagliava un colpo. Io però cerco di vivermi il momento, di concentrarmi sul presente, quel che sarà sarà. Secondo me siamo una squadra molto forte, cercheremo di tenere alto l'onore della squadra precedente, dell'Italia in generale, però sono fiduciosa. Riuscire a fare l'Olimpiade quest'anno è un bel messaggio per tutti gli sport, per creare una ripartenza verso quello che potrebbe essere la stagione successiva, perché la stagione passata non c'è proprio stata, quindi sì, sarà sicuramente una bella occasione per dare un po' di speranza. Insomma.